magari andavo pure al Forte Prenestino che c'è stato c'era tutti gli amici così poi così poi magari poi in borgata lì in piazza dove stavo io dicevano solo i vocali quindi mi imparavi bene le vocali perché erano tutti... poi mentre mi avvicinavo al centro dicevano solo i consonanti ok c'è tipo parlando così tipo c'è stato un festino che mi sa tipo lo piscio capito c'è un tipo un festino che mi sa tipo lo piscio che sarebbe tipo non ci vado ah ok poi c'avevo amici schifo... avevi tutto l'alfabeto poi risultato... c'era la fine io ero completo tradizione e tutto ciao Edoardo e benvenuto al podcast ciao grazie come stai? abbastanza bene cosa cosa stai combinando di recente? ma di recente sto... cosa sto lavorando? sto facendo come ti dicevo prima l'amica geniale è una serie per la Rai e poi anche HBO for the Yankees e come ti stai trovando bene? sì bene bene no ma mi hanno proposto questo volo sapere costanzo e sto lavorando sul napoletano il personaggio si chiama Michele Solara e è un cattivo lì sono malavitoso della della zona tanto per cambiare ormai sono orientato da Jessica Rabbit quindi sto facendo uno studio sul napoletano insieme a un signore insomma molto bravo che mi manda proprio i whatsapp con tutte le parole scandite come se fosse poi dopo io lo mastico un po' eh perché infatti questo volevo dirti tu ovviamente sei conosciuto e hai fatto tantissimi ruoli da appunto romano e cattivo come dicevi tu villain 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 esatto e quindi anche esplorare altre altre lingue lingue insomma altri accenti altri dialetti è una cosa che ti piace? sì mi piace anche perché poi sono un musicista diciamo suono una chitarra da quando sono 12 anni quindi una musicalità ce l'ho e quindi mi piace la prendo come una partitura un po' capito? ehm 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 anche con quando ho fatto brusca con montanari con il cacciatore pure lì c'avevo una… una persona e mi diceva che ne so… eh ti ricordi papà quando per punirmi mi mandò in montagna con le pecore? diventa ti ricordi o papà quando per punirmi mi mandò in montagna con i pecore? e poi diventa dire coi dio papà quando vi ponere me mi manano una montagna gipi e poi tu te lo fai lo faccio prima piano e poi dopo con il napoletano sto facendo la stessa cosa però devo dire che sono abbastanza contenti e hai paura delle reazioni del pubblico no perché sono napoletani quelli lì che mi stanno facendo sono proprio napoletani doc e quindi quando mi dico sono abbastanza puntigliosi pure esigenti quindi quando mi dicono va bene va bene ma proprio anche le vocali aperte chiuse per esempio tutte doie se parli di donne e femminile è doie se state voi e tutte doie invece due e maschile c'è quindi anche queste piccole sfumature vengono cioè come cinese dipende come lo pronunci sì e codici se dici ma in quattro modi diverse tipo romano ma 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 già detto cane casa e tazza si c'era il famoso me di zalone anche quando aveva in norvegia spiegava i quattro no quanti erano gli otto significati di me ma io ovviamente non lo so in norvegia si a un norvegese noi italiani quante cose riusciamo a dire con una sola parola per tutta l'altro ha iniziato facendo delle imitazioni a casa a casa nella tua famiglia si ti sei informato sono informati ho preso informazioni sì perché io vengo da una famiglia poi che sono molto diciamo teatrali loro perché il mio bisnonno era dei quartieri spagnoli quindi sono napoletani e poi romani però sono sempre poi stata una famiglia numerosa sempre allegra molto ironica anche così quindi c'è sempre stata sta performance a casa diciamo quindi se hanno sempre recitato sempre girato molto eduardo de filippo a casa si vedeva i film scola la commedia all'italiana così quindi io per far per avere un po di diciamo di attenzione ho trovato questa la performance così fare un po il buffone di fare imitazioni raccontato i barzelletti così quindi e che imitazioni facevi allora che facevo verdone verdone ma adesso meno più che ti fa lo vago c'è un po facevo sempre una risaolo quello che non trova la telefonata quadrina poi facevo grillo facevo grillo a tutto un po così ma facevo totò currato adesso non però me mi allenavo davanti a uno specchio e cercavo di fare delle prestazioni importanti quindi era un piccolo pubblico poi erano sempre 10 15 20 persone i miei zii cugini e quindi faccio imitazioni così quindi mi sono sempre un po esibito ma le feste comandate o le feste maggiori erano sempre diciamo domeniche a pranzo siamo sempre abbastanza numerosi era mio nonno che teneva pace a quattro figli poi la pure erano altri quattro figli insomma una famiglia numerosa bello perché io nelle mie ricerche ho scoperto anche che c'era il palazzo pesce c'eravate tutti nella stessa condominio si stavamo via allora io c'ho mia madre che è di torbella monaca però la parte vecchia che comunque una parte non i palazzoni diciamo una parte sana perché ogni palazzina aveva le famiglie quindi mio nonno il papà di mamma era di fuori e quindi era un capomastro avevano fatto se le palazzine negli anni 50 60 quindi lì la parte di mia madre poi invece mio padre mio padre con mio nonno sono di via germanico a prati e anche lì comunque sa ma prima erano molto si usava che tutte le famiglie stavano vicini i zii al palazzo della finestra avanti così quindi la via germanico era un palazzo di questi proprio di prati classico col cortile interno è molto bello però poi non è studiato per far l'attore subito io non ho fatto liceo classico il mamiani per proprio perché avevo la residenza via germanico quindi fortunatamente foto ha detto sono visto anche una realtà diversa con i ragazzi del centro che comunque sono più sai c'è un po più di di input a livello culturale perché comunque sai in periferia per carità bravissimi ragazzi però c'è anche una sorta di limite anche un po culturale per le famiglie non è che sono tutti i figli di professori certo invece quindi andando al mamiani ho conosciuto ragazzi comunque che suonavano la chitarra che leggevano 15 degli input magari da leggi questo libro fai poi non c'era internet che erano 93 94 quindi pure per fare un riff di chitarra te lo dovevi passare da registrare la canzone dalla radio con poi registrare esatto però quindi è stato una fortuna insomma come sai come si sente non sono di roma però da qualche anno sono qua ho capito che c'è questi licei hanno un ruolo fondamentale nel senso ci sono sono proprio le persone che poi si ritrovano tutta la vita nel senso magari si riconoscono ecco non si ritrovano che ho fatto questo dicevo qui e allora hai delle cose in comune cioè sono molto delle piccole comunità un po no ecco sì 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 e quindi la cosa del ricevo a roma è abbastanza forte perché poi ti disperdi nelle varie professioni oppure so chi riesce no e quindi poi dopo magari anche nel cinema oppure trovo un ragazzo magari della produzione che ha fatto oppure c'è un mio amico regista del rigomare artale che ha fatto la mia stessa sezione di però due anni prima che più un po più piccolo cioè che ne so muccino ci stanno capito quindi trovi una sorta un altro mio amico medico si si creano delle piccole delle piccole comunità liceali che poi continui a vedere sempre insomma portico con le diciamo nel grande schema per chi non è di roma quello che hai fatto tu cos'è un po quello artistico cos'è io ho fatto il classico nella sezione difficilissima che neanche sapevo io perché venendo dalla periferia io non eravamo tutti i giorni a nannina l'epanto infatti ci mettevo pure di meno di chi veniva da da via dei medaglie d'oro per dirti però poi in in metro potevo anche ripassare quell'ultima mezz'oretta capito perché tanto a nannina mi mettevo seduto e quindi no liceo è un liceo romano buono il mamiani è famoso insomma c'è stata perché comunque professori specie in di sono molto bravi tra l'altro una professoressa ha fatto anche che a latino e greco mi sono salvato perché poi ho iniziato a studiare il latino e greco perché mi aveva messo 3 4 di seguito la professoressa allora io rosicato e quindi mi sono messo a studiare bene le basi e poi dalla campato di rendita come si suol dire c'avevo sempre otto facevo due versioni latino e greco mi ha portato e per esempio la professoressa ha fatto romulus ha riscritto però c'erano poco di raccomandati in questa di cioè che le persone era un po clientelare cioè i ragazzi per dirti della generazione prima che stavano in di poi le famiglie se quei c'erano un fratello più piccolo cercano di mandarlo in di proprio perché erano bravi la tosta è solo che è stata è stata una cosa brutta cioè siamo arrivati siamo partiti in 32 siamo arrivati in 15 16 è stata tipo sbarco in normandia terzo liceo erano 15 per l'ambiente di quelli c'è ma senti ma credi che poi ti abbia aiutato anche dopo nella tua carriera è questo passare anche un po fra mondi diversi assolutamente sì 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 proprio trasversali sì sì perché così posso attingere da più realtà poi magari andavo pure al forte prenestino che c'è stato già tutti gli amici così poi così poi magari poi in borgata lì da in piazza dove stavo dicevano solo i vocali quindi mi imparavi bene poi avvicinava al centro dicevano solo i consonanti ok c'è tipo che parlando tipo così c'è stato un festino mi sa tipo lo piscio capito c'è un poco studiata così no però mi è sempre piaciuto vedere le varie realtà c'ho amici che fanno parte magari di varie come dirti come si può dire community non so per esempio i skin c'ho dei amici skin red skin non skinhead diciamo nazi skin che quindi hanno la cultura ska le cose i tatuaggi all style cioè c'hanno un modo di però sono molto svesto in un certo modo e poi magari ai centri sociali al forte prenestino vestivano in un altro modo più tribaroli sai c'hanno le cose e al centro magari c'erano i pariolini oppure c'erano quelli di monteverde perché poi abitato pure a monteverde vecchio e poi c'è quindi comunque io ho sempre cercato di non prende non mi è mai venuto di poi di vestirmi in un certo modo di far sembrare che ha di appartenere a un certo di una certa un certo tipo tipologia di sempre cercato di essere me stesso insomma un po uno stile mio essere un po mi da fa mi dava fastidio l'appartenere a un qualcosa capito troppo l'essere troppo conforme a un qualcosa cioè invece magari altri che non c'è niente di male però anzi romana città con delle identità molto forti no c'ha tantissime identità io dico sempre del roma non esiste tipo africa tipo l'africa c'era di e così in piccolo roma per crisi de roma che vuol dire quando dico alle persone di comandito sei de roma perché potete come se dice roma non esiste cioè se è totalmente talmente frastagliata e talmente tante realtà che non si può parlare di roma si può parlare di zone di quei quartieri di torpignattare di versa da certosa e stanno a due chilometri monteverde vecchio da monteverde nuovo e trasferire la vicina di casa che di monte verde è una fondamentalista monteverdiana monteverde vecchio per esempio c'è un po l'intelligenza di sinistra si fa un radical chic perché poi alla fine stanno stanno bene però sono intellettuali per esempio stavo a casa da mio amico daniele cortese che pagava la stanza da lui e quando sono andato via di casa a 23 24 anni lui pare il nipote di miriam mafai e quindi c'era anche una certa sempre anche gli amici conoscevo jasmine trinca pollice abitina che ne sono anni moretti c'è verdone cioè c'è sempre un fermento certo è una zona molto denso e quindi tu la tua identità come te la sei costruita poi tutto in tutto questo poi in fieri si ci sta lavorando quando sarò grande fino adesso non è andata male però sin che non se ne accorgono io vado però poi non hai provato subito a fare l'attore o sì io inizio poi ho una mia cara amica che si chiama silvia che veniva al liceo con me pure lei era l'una dei pochi outsider perché era di porta furba quadraro quindi anche lei prendeva la metro l'ho vista ieri siamo ancora molto amici e ha iniziato a fare un corso di teatro a 21 anni a 20 anni da edoardo torricella che era un attore sperimentale ma era già grande quando faceva questa scuola lui aveva lavorato con carmelo bene così e quindi ho detto vieni e dico no sì ma io invece poi ho fatto lì un anno poi sono andato un anno da da garinei e poi lì ho fatto un provino con claudio carafoli che era stato un grandissimo maestro per me un amico che adesso purtroppo non c'è più e da poco però mi ha insegnato tutti i tempi lui aveva lavorato con sepe con giancarlo sepe quindi sono stato subito sul palco diciamo nei teatri off e ho fatto questo spettacolo siamo a lezione da quartetto per viola erano quattro ragazzi e viola cristina noce un'attrice molto brava che faceva la nostra maestra però era tutto comico ma era tutto un orologio quindi era tutto papa papa facciamo 8 al giorno di prove quindi era valsa come cinque mesi d'accademia per dirti ok perché poi pensare subito con le con la gente poi ho fatto il teatro azione con isabella del bianco e mi hanno cacciato via perché il saggio ho dato buca purtroppo perché mi hanno preso per una pubblicità della team ok quattro giorni luca lucini ero protagonista quindi ma hanno un po spaventato perché lancia un agente ma era un cialtrone che mi aveva detto che mi avrebbero fatto la multa così e quindi ho il giorno stesso che devo fare il bottone sono una notte di mezza estate ho dato buca e come era la sua scuola che ha avuto un incidente non ci hanno creduto nessuno dovevi farti fare un fronte era andato bene perché poi era uscito con gli europei che mi sembra il 2004 era recitato quindi c'era nomi campbell e poi però alla tela dopo la prima per dopo il primo episodio sa dove andare tutti e quattro e ho letto sul giornale di con gli alpini contro vittorio che era il mio personaggio come gli alpini io facevo detto che non vengo al mare neanche se me lo chiede nomi campbell faceva sto tormentone e quindi c'erano io che stavo in montagna però una volta fungevo la mucca una volta aveva finito per cosa al trattore una volta capito così e invece c'erano stamico mio che stavo tutte belle ragazze al mare tra cui nomi campbell io facevo non vengo io sto meglio qua poi attaccavo invece stavo da solo una montagna oppure queste due queste due contadinone quindi la pro loco cortina quindi poi dopo esatto quelli si sono lamentati che il mio personaggio andava dava un'idea negativa della valtellina quindi hanno tagliato gli alpini contro vittorio detto allora questa mi hanno gufato e poi ho provato a rifare il secondo anno gli altri attrazioni ma non ha detto vai via no proprio delusa in effetti poi ci teneva a me neanche mi faceva pagare la nata mensile e quindi mi voleva bene tu l'hai tradita per nomi campbell e per nomi campbell ho tradito il teatro e l'hai incontrata novi non non te l'hanno fatta vedere montagna giustamente e poi fatto il romanzo criminale poi ho fatto il provino il romanzo criminale sì ma io sì ho fatto veramente poi ho cambiato agente insomma sono andato a monte verde c'era questa agenzia sotto casa che l'agenzia daniele antonelli si chiama che tra l'altro ormai siamo pure pure amici perché dal 2005 2006 no no devo dire che sono stato proprio un gavettaro poi erano anche bei tempi quando facevamo teatro insomma così stai contento anche se non c'era una lira però sai magari andavi la sera dopo lo spettacolo a mangiare stavi da un po un po bohemian per tante speranze anche forse no a quell'età sì sì però ecco ti ripeto io l'ho trovato per fortuna il modo per esprimermi a livello teatro datoriale col corpo la voce capito quindi trovato un po uno sfogo per fortuna perché magari per altri è qualsiasi cosa c'è un po imperativo il surf capito io per fortuna ho trovato sto canale quindi sono contento sempre è diventato pure un lavoro quindi tante volte mi sento in colpa quanto quando devo andare a lavorare mi diverto ma tu hai sentito bisogno di uno sfogo sei un po iperattivo diciamo no da piccolo si da piccolo ok libero attivo tanto che poi ho fatto la pipì a letto fino a 12 anni se vuoi si può dire ho fatto se lo vuoi in uresi si dice si chiama in uresi ok pipì a letto perché talmente ero performativo il giorno e quando svenivo svenivo a proprio prendevi il controllo diciamo da una specie di semicoma quindi questa questa è interessante vogliamo tagliare senti è un po umida senti poi romanzo criminale ovviamente grande successo e tu mi raccontavi anche facciate le serate in discoteca mi hai detto dopo sì sì ma eravamo diventate più famosi dei dronisti perché e poi vabbè poi ha intervistato anche francesco siamo rimasti tutti amici è stata una bellissima esperienza ci hanno fatto 45 provini per uno a me forse a francesco anche di più mesi a 10 12 per i ruoli quelli più grandi e quindi siamo stati sei mesi insieme siamo divertiti veramente tanto e poi io avevo conosciuto un dj di latina che faceva se serate e quindi in pratica ci vendeva ma diciamo onestamente oddio cioè per dirti prendevamo un buon budget per uno quelli più importanti e quindi organizzavo ciò allora varsi tipo menù a chi c'hai guarda allora c'ho a bufalo libanese poi io mio fratello e daniela va bene bene quanto dicevamo una certa cifra però ce ne davano perché comunque riempivano la discoteca che ruba i soldi a qualcuno la discoteca veniamo 5.000 persone quindi che prendevi che ne so un 20 per cento di quello che no no diciamo di tutti quanti magari un 10 per cento di tutto quello che incassava quindi non è che stavi a sfruttarmi anzi se stavamo pure quasi noi che eravamo un po sfruttati perché volti nuovi non ci conosceva nessuno sai quindi un po non è che si vedevamo molto in giro quindi quando dicevi che sono questi romanzo criminale a gente quindi cosa avvenivano si facevano le fotografie i sapi lì in console romanzo criminale a sartoretti che facciamo caso nato canta rdj io dicevo solita stupidagge quarto d'ore se ne andavamo altre volte aveva fatto pure due tre discoteche a capodanno venite ora le paghiamo stata cena dai fare molto sforzo dei 23 capodanni quattro belli che una capodanno io sinceramente si beh un po sempre una giornata ora che pagano pure perfetto sì anche perché ti pagano anche di più del solito esatto infatti sì non è stato un bel periodo anche io sempre ho avuto lì c'è un mio fratello che c'è gente che si è fatto anche il bagno nuovo la cucina hai fatto i lavori a casa no no è stata buona è stata buona per tutti anche che erano tutti in nero ecco quindi bene che non diciamo tanto ormai forse ormai è passato in prescrizione se equitale ci sta ascoltando penso che beh no vabbè discoteche tanto insomma si si sapeva sì ma poi è stato tanti anni fa diciamo così bei tempi senti poi una delle cose povero Silvio sì sì beh quello era il suo mondo la sua epoca che poi tra l'altro se vuoi posso dirti questa cosa in pratica lì vedevi proprio il conflitto di interessi che c'è stato a livello proprio produttivo perché la prima serie era prodotta da mediaset cat leia e sky ok era il 2007 poi sky ha cominciato a fare dei numeri importanti il giovedì perché non c'era ancora non potevi registrare mai sky diciamo ok e faceva sti numeri faceva 4 500 mila persone il giovedì sera cioè si incontravano tutti per vedere sto romanzo criminale dagli avvocati ai pischelli a quindi e poi c'era anche mi sembra formula 1 che aveva preso sky e quindi berlusconi da presidente del consiglio che ha fatto lui ha alzato l'iva a sky a mardoc quindi è quello il conflitto di interessi ha cominciato a diciamo a pubblicizzare la digitale terrestre del fratello vedi che ha fatto proprio infatti dalla seconda dovevamo fare tre stagioni la seconda si è tirato fuori infatti è prodotta solo da sky e cat leia quindi c'era meno soldi l'abbiamo dovuto un po' chiudere prima e infatti ho sempre avuto la foto dalla seconda se ci fai caso non c'è mediaset non c'ho mai fatto caso stava facendo troppo audience sei un caso internazionale era diventata concorrente sua di mediaset però lui da politico ha alzato quindi diciamo che alla fine ecco il conflitto di interessi è questo no io l'ho sempre trovata un po' corta la seconda stagione cioè nel senso non era mi era piaciuta però mi sembrava che ci potesse essere di più uno erano doveva essere tre infatti era molto più dilatata la narrazione ma pensate non la sapevo questa retroscena e tu l'hai mai incontrato berlusconi? sì l'ho incontrato perché sempre quando sempre per campare facevo ho fatto un provino per una televisione che si chiamava Rai Futura e quindi andavo là a fare il comico e facevo questi questi personaggi comici scritti dal figlio di Dino Verde facevo De Niro facevo De Niro che però è comico che sembrava che doveva fare delle cose perché diceva e adesso l'hai fatta a pezzi ecco bravo falla a pezzi perché a me il pollo quando torno a casa mi piace più poi poi facevo un extra comunitario rumeno che insomma che era arrivato in Italia da poco e faceva i lavori più strani tipo il palo il palo della porta di calcio il faro facevo così e poi l'hacker toscano poi facevo e andavo lì e mi davano sto gettone e una volta è venuto Berlusconi perché era appunto una cosa comunque di credo che dietro c'era sempre una cosa un po' politica sua credo ma hai detto Rai Futura Rai Futura sì quindi era Rai però al periodo in cui era tutto suo aveva tutto e quindi è venuto una volta dal vivo ma infatti sembrava un po' non così come ultimamente però già cominciava a sembrare un po' inquietante un po' una mascherina sembrava un po' una un po' un mascherone diciamo ecco molto truccato dal vivo così queste scarpe alte ci aveva però comunque molto empatico simpatico comunque ah quello sicuramente sempre stato simpatico poi è diventata una caricatura un po' di se stesso anche alla fine ormai è una maschera da commedia dell'arte secondo me lo troveremo tra 20 30 anni vicino a penso Berlusconi come che ne so pantaloni arlecchino senza no no certo certo no tra l'altro non è radicato nella cultura italiana che è una maschera da commedia dell'arte si si sono d'accordo sono d'accordo tra l'altro sono state fatte tante cose su di lui ma non c'è ancora quella secondo me che ha reso veramente il personaggio che era lui eh si forse quello di Sorrentino ma anche in 1992-93 che non è proprio no troppo contemporaneo eh forse ci vuole un po' più di distacco però comunque è un personaggio interessante narrativamente è molto molto interessante beh se vedi Succession che è sui Marduk fondamentalmente ci vorrebbe una cosa del genere però non so se siamo in grado di farla da noi è molto complicato però si potrebbe essere con i figli le cose dinamiche interne però non so se non so se si può fare anche legalmente da noi cioè beh non puoi fare proprio Berlusconi però appunto no vabbè c'è una roba italiana che lo fai simile molto simile verosimile si la si chiamano Roy però fondamentalmente sono loro in Succession tra l'altro c'è quello che fa Kendall Roy come si chiama? quel ragazzo Jeremy Strong cioè lui fa tutta la stagione dice e i suoi diciamo colleghi lo confermano infatti non lo sopportano non esce mai dal ruolo no? cioè stava sei mesi a fare il figlio di Logan Roy che ha funzionato anche molto perché in alcune parti tutto il cast e il resto del cast doveva odiarlo e quindi lo odiava cioè lo ha fatto il me non lo sapevo questo sì sì e lo ha fatto sei mesi proprio di metodo sì sì così beh si vede infatti il lavoro che ha fatto sembra minicidiale è pazzesco tra l'altro adesso non voglio spoilerare perché non l'ha vista ma a un certo punto sorride verso la fine e ti rendi conto che per quattro stagioni non aveva mai sorriso è una roba incredibile sì c'è questo sì sì sembra un po' Rayman c'è un po' qualcosa anche d'autistico un po' dico di sì esatto una forma autistica del personaggio ci ha messo un qualcosa di estraneante di intontito è intontito dalla vita da questa figura paterna così ingombrante quindi si vede che è stato bravo perché ha messo una diciamo un colore di come dirti di incompletezza della persona cioè che non è completo è sempre bambino sì sì appunto non essendo riuscito a liberarsi della non ha ucciso il padre edipicamente no? e quindi è infatti lui come tutti così perché come il padre gli fa il papà ritornano subito regrediscono sì sì a uno stato infantile no ma infatti è anche molto contemporaneo il fatto che non venga ucciso il padre perché è una condizione molto diffusa oggi no? infatti a un certo punto lui sembra che ce la faccia alla fine alla seconda non mi ricordo quando c'è il matrimonio insomma e poi non ce la fa e questo io l'ho trovato da un lato è brutto per chi lo guarda perché ti aspetti che il ciclo si compia no? come il re leone a un certo punto c'è il nuovo re della foresta no? però è molto è molto contemporaneo che però non succeda questa cosa sono d'accordo è proprio contemporaneo che il padre non lo uccidi finchè muoiono i padri muoiono non vengono più uccisi non vengono più uccisi però sono d'accordo perché cioè nel senso no con l'uccidere il padre sempre metaforicamente certo a livello sempre psicologico perché io per esempio pure ho un papà a cui insomma siamo tutti innamorati voglio bene però sono un padre forte come lui ha avuto forte il suo padre però mio padre si è riuscito a emancipare a fare una famiglia ha fatto medicina da solo non è un padre medico e quindi io poi per fortuna sono riuscito a trovare questa strada così ecco e la cosa importante è stata proprio questa qua che sono riuscito a essere autonomo un individuo e quindi poi cambia anche il rapporto con tuo padre perché non ci siamo poi parlati per un periodo dove c'erano delle tensioni così invece poi ti stima anche come uomo no c'è un rapporto più di rispetto quindi quello indipendentemente secondo me da quello che uno fa dalla cosa economica oppure ecco io infatti ragazzi dico sempre cercate in una stanza anche a 200-300 euro al mese la trovi perché certo se vuoi stare a Campo dei Fiori perché devi stare certo ti prendi i mezzi ti fai un motorino ti fai un cinquantino e vai a fare il cameriere vai a lavorare 8-7-8 ore poi certo se non vogliono fare niente guardano Instagram perché stanno tutti bene così allora no però quello che dico nei padri serve credo non eccessivo ovviamente però un po' di severità poi ti spinge a fare le cose ma si è naturale un po' di tensione ci vuole c'è un po' di tensione anche il cercare di di mandarli fuori di casa mica abbandonarli però 20-30 per vedere quello che uno sa fare perché ti ripeto poi può essere anche che c'è un po' di bisogno di fare un po' di sacrificio però poi alla fine secondo me se uno gli rimangono 10 euro ma sono i tuoi e la sera ti mangi un piatto di riso con un amico un bicchiere di vino con una ragazzetta quello che è e c'è un altro sapore che se invece stai a casa che magari magari ne danno pure 50 ma non so cioè non lo so certo c'è molta paura di soddisfazione non ti rendi conto di quello che sai che puoi fare sono d'accordo e secondo me generazioni più giovani anche rispetto a forse la nostra c'hanno anche tanto paura di fallire forse perché poi il fallimento è super rappresentato finisce ce lo sanno tutti in un attimo come e quindi è anche più questa cosa che hai più paura forse sono terrorizzati terrorizzati di sbagliare certo errore poi spesso quante cazzate abbiamo fatto noi non lo sa quasi nessuno bisogna togliersi dai social così fare cazzate in pace eh però non so se è possibile perché se infatti è quella che sono io vedo pure sì che ragazzini più piccoli mia nipote sono anche a 9 10 anni sono terrorizzati ci hanno sta paura di essere giudicati è già patologica è proprio una malattia infatti tanti stanno dentro casa non escono più aumentano gli ichi mori come si chiamano sì sì quella che è romano ichi mori gli italiani ichi muori giusto ichi mori esatto però vedi che c'è si tolgono dalla società perché molto competitiva e quindi tante volte per le persone che vogliono stare tranquillo non gli piace troppo la competizione preferiscono non partecipare no questa non è una cosa bella ma quindi adesso è un buon rapporto con tuo padre sì sì molto bello sì sì sempre insomma ci divertiamo siamo poi mio padre divertente come persone veramente siamo andati pure a sciare insieme abbiamo ricominciato ad andare a sciare poi c'è stato il covid perché andavamo io e lui e avevo preso questa cosa che per due tre anni stavamo andando una settimana io e lui a sciare e poi dopo riprenderemo ma io andavo sempre con mio padre adesso è troppo anziano però vabbè poi sono nato a Bolzano quindi era molto semplice però per tanti anni non ho sciato adesso ho ricominciato è divertente troppa gente c'è ormai sulle piste però è divertente ti svuota il cervello comunque sì no è una cosa incredibile poi la cosa più bella è quando avevi gli scarponi e averci i quattro impagabile io faccio tutto per le mie scarponi ai tre e mezzo a quattro e andando in piscina sì poi ci sono sempre questi posti caldissimi dove essere tutto il giorno al freddo poi entri in questi posti super caldi e c'è anche la dilatazione la atmosfera è bellissima senti poi una delle cose più rischiose che hai fatto è che comunque ti è riuscita molto bene hai fatto l'alberto sordi come ti è venuto in mente nel senso te la sei rischiata guarda quello devo dire che è stato Luca Manfredi che ha visto in me questa cosa e quindi mi ha chiamato mi ha contattato in effetti poi rivedendomi vedi cioè stando così cioè assumiavo poi gli occhi poi sai c'è una certa l'umanità e tutto e quindi devo dire che lui ha visto questa cosa poi abbiamo fatto un provino per mandarlo alla Rai abbiamo fatto un paio di scene mi ero fatto i capelli più rasati qui così il naso un po' e abbiamo fatto la parte del teatro e la parte che parlavo con Fellini e devo dire che il provino è stato incredibile è solo che poi purtroppo per problemi produttivi ho dovuto fare prima il cacciatore e poi sordi invece dovevo fare prima sordi e poi il cacciatore infatti mi ero asciugato molto mi ero dimagrito qui e quando invece poi hanno detto la Rai ha deciso di fare prima il cacciatore brusca io dovevo fare diciamo prima come produzione ha fatto il cacciatore e poi hanno fatto sordi quindi io in pratica quando sono andato a fare le prove costume per brusca sembravo un principino perché mi ero asciugato capito e tutto quanto invece dovevo ringrassare la barba e quando poi dopo ho finito in corsa c'evo poco tempo e quindi un po' quando mi sono tagliato la barba era un po' gonfio quello mi è dispiaciuto perché non ho reso proprio come volevo sordi poi anche a livello produttivo hanno cambiato delle cose beh però secondo me è molto riuscito cioè la tua prestazione è è stata un po' faticosa come produzione pure Luca ha faticato perché c'erano pochi giorni sai la Rai non sempre da è un po' è molto come dire diciamo bisogna produrre molto diciamo no è che ti dice che sono quelli sì esatto è come se fosse comunque una cosa un po' più statale quindi hanno quel budget i giorni sono quelli capito non è una produzione che dice vabbè dai facciamo un'altra settimana capito quindi devi stare in quel budget in quel tempo lì certo quindi e come ti sei preparato per quello perché ho visto ma io guardo un po' l'espressione così sai quella sua così un po' di maschera appunto ecco sordi un po' l'ho fatto come una maschera come una cometa dell'arte cioè che magari un altro attore romano avrebbe fatto il suo sordi quindi metti caso che appunto non so un altro attore romano lo fa diversamente cioè trovare un giusto compromesso fra Edoardo e Alberto Sordi la mia idea di Alberto Sordi certo serviva un po' la voce un po' la cosa sai questa cosa così la tonalità così però non è che devo fare imitazione ecco di tortura diciamo magari quindi ho cercato di essere vero di cercare di sentire di dare una mia idea una mia interpretazione di sordi tu eri un appassionato suo? sei un appassionato di sordi? sì sì come no sì io sì ho trovato i sordi poi a casa ti ho detto abbiamo sempre visto tutti i film suoi sappiamo le battute a memoria ma poi Scola Mastroianni insomma i mostri della commedia all'italiana tutti i film ho visto quasi Manfredi poi ogni tanto vedo un film che non ho mai visto tipo l'altro ultimamente ho visto a cavallo della tigre molto bello a cavallo della tigre sono Manfredi altri due attori uno non mi ricordo il nome del nord ma è un film vecchio è bellissimo e non mi ricordo neanche il tema neanche il sentito però non sono sicuro ma c'è successo no perché l'hanno rifatto hanno fatto un remake con ben ti voglio così però l'originale è molto bello a proposito di remake come è andata con Bud Spencer ma con Bud Spencer in pratica suoi figli quindi era questa cosa così di film divertente loro lo chiamano Reboot sì Reboot infatti non è un remake Slaps and Beans tipo in inglese c'è questa cosa che sono schiaffi e fagioli ah ok e ma quindi io mi sono divertito perché poi con Emiliano Novelli il capo Stantman e tutti i ragazzi che sono bravissimi abbiamo fatto delle coreografie molto fighe io devo dirti quello non l'ho visto però ho visto si sa che c'è che il titolo è un po' ehm depistava un po' perché sembrava che dovevamo andare a toccare questo mostro salto guarda lui infatti mi ha detto chiedigli e mi raccomando perché hanno fatto eh no ma sai che c'è che la la produzione ha deciso di fare questa cosa che secondo me è stata un po' un'arma a doppio taglio proprio anzi è proprio andata contro il film perché siamo i figli cioè inizia il film che si vedono dietro a un vetro dell'officina Bud Spencer le silhouette e Terence Silk litigano per la di un buggy e noi da piccoli che la rubiamo ok e poi dopo lui se la gioca a carte poi cresciamo io un pochettino sai inizialmente dovevano essere che era divertente come cosa i figli uno di Bud Spencer e uno di Terence Silk con la stessa madre ok che era una un po' allegra e le aveva partorite nella di un buggy che era divertente però poi se la cambiano in corsa le cose non lo so purtroppo non ci può fare niente quando firmi una cosa poi dopo cambiano e non non so Brad Pitt che c'è il controllo di tutto la madre doveva essere tedesca perché sai che in Germania c'è un culto di Bud Spencer pazzesco si o era tedesca oppure era del non so se era centroamericana centroamericana sudamericana comunque era una divertente quindi pure quello l'hanno tolto poi l'hanno tolto come al solito anche di un po' di budget per fare le scene sai in corsa poi succedono queste cose che purtroppo però ecco potevano chiamare altrimenti ci arrabbiamo pure noi oppure che vese te ne abbiate a fa oppure non lo so Davide è soddisfatto la risposta senti invece una cosa che è stata acclamata in maniera univoca all'universale è stato ovviamente Dogman io devo dirti che il film mi è piaciuto molto ma è uno dei rari film contemporanei che ti angosciano profondamente cioè nel senso senza essere degli horror cioè dei film beh si è angosciato tu esci è lì che sei angosciato è tutto è molto dovuto anche alla tua performance diciamo in quel ruolo cioè come Matteo comunque è bravo a tirar fuori inquietudine tutto nel complesso figurati non è bravissimo certo però anche il tuo personaggio ma sai con Matteo poi è sempre facile sembrare bravi sì perché comunque lui fa un lavoro sugli attori che di Dogman abbiamo iniziato a pensarlo tipo Frankenstein io gli avevo detto no? ma in che senso? perché poi Matteo voleva fare che aveva avuto un incidente aveva sta placca in testa quindi mi era venuto in mente una specie di Frankenstein di Mary Schiller sai quello con De Niro così di farlo un po' però poi invece così ottuso era un po' troppo quindi abbiamo fatto comunque abbiamo durante le prove abbiamo visto che meno parlava e più era pericoloso inquietante cioè nel senso che poi il matto è quello che non sai se ti dà un bacetto oppure di poi c'era appunto la sensazione lì è molto forte quella era sì imprevedibilità quindi abbiamo visto che era più sullo sguardo sulle cose poi mi ha aiutato molto il prostetico di Lorenzo Damburini loro le truccatrici che sono bravissime che avevo qui il prostetico e anche qui quindi bene o male da attore dentro ti senti come una maschera e ancora ti aiuta molto di più a recitare capito? cioè lo stare dentro a un a un prostetico ti aiuta ti da ancora di più poi ti senti ancora più ti aiuta ti aiuta molto dalla maschera non c'è niente da fare cioè ti aiuta a staccarti un po' da te ti aiuta sì 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 a stare più concentrato sul personaggio esatto cioè come se guidassi un robot c'è presente quelli dei versioni animati che vedevamo quando eravamo piccoli che stavano dentro d'altanius eh sì sì così quindi hai visto che poi erano un po' mi veniva in mente quella roba all'amme tipo voltron c'è presente che arrivava l'eroe che entrava dentro al robot ecco io mi sentivo un po' come il personaggio giapponese che entrava dentro al robot e quindi poi mi sentivo un po' così poi Matteo è bravissimo a narrare le dinamiche psicologiche tra i personaggi perché lui inizialmente voleva fare fattacci di cerami che erano quattro infatti di cronaca romana quindi c'era il nano di termini che da cui ha fatto l'imbalsamatore e era interessato alla dinamica 3 diciamo in menace attuale di questi di lui del nano lì con il modello e lui quindi era il triangolo no un po' così un po' di manipolazione a livello anche sessuale e quindi ha fatto l'imbalsamatore poi c'era il canaro un altro fatto di cronaca che stava sempre in cerami e quindi lui voleva fare dogman e lì era interessato Matteo alla dinamica di sadomasochismo quindi il sadico e quindi sarebbe il bullo e la vittima però comunque che anche il bullo il sadico inconsciamente comunque anche la vittima è portata ad essere un po' masochista cioè comunque si incastrano cioè non so come dirti anche il bullo anche i bulli i bulli i ragazzini o quello che è comunque non a caso vanno su uno o un altro perché comunque si instaura sotto una sorta comunque rapporto attrattiva di rapporto anche intimo anche se è malato che è stato masochista però c'è una sì c'è questo incastro secondo me infatti alla fine Matteo rimane su Marcello quando io muoio che rimane solo cioè non so se c'è diciamo questo il finale un pochino è anche questo qua cioè che perde anche identità a lui infatti è quasi sperso quando muore il suo ragazzino diciamo paradossalmente perde anche lui è destabilizzato capito sai cosa mi ha ricordato un po' Bagby di Trainspotting però Bagby dura cioè nell'economia di Trainspotting è un personaggio importante ma breve mentre invece qua è tutto così non so se te lo ricordi il personaggio l'unico che non si fa di eroina diciamo di tutto sì quello è un po' tipo tipo Gio Pesci su quei bravi ragazzi un po' per la Gio Pesci ma esatto 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 esattamente però ovviamente si sia cattivo quello è cattivo ma soprattutto anche imprevedibile come dicevi tu prima è quella la questione sì 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 la scena buffo ma buffo come pure Gio Pesci è imprevedibile sì 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 sono matti sono matti e io per fare quel personaggio la so partito sempre da un dolore nel modo che uno gli da anche una profondità che anche se poi non si vede però io dentro ce la metti capito una forma di fragilità magari da bambino chissà che gli è successo oppure il padre magari gli menava oppure è stato umiliato mortificato perché non è che quello di Dogman e Simoncino è nato così cioè non è che è uscito la madre ha partorito un piccolo mostro ci sarà qualcuno così però sono molto pochi è un'incidenza non lo so se è genetica la cattiveria no in generale probabilmente nella maggior parte dei casi no però esisteranno anche delle persone naturalmente meno di quante pensiamo magari poi è venuto Antonio Pascale che è uno scrittore raccontava questa storia di Dahl sulla nascita di Hitler e la madre di Hitler aveva perso 3-4 figli prima di lui e quindi era convintissima che non sarebbe più riuscita ad avere un bambino e poi per fortuna il fortuna è uscito Zio Adolf e capisci? cioè era interessante questa storia paradossale può darsi che ci sono delle energie delle cose che sicuramente però appunto sono sempre forse fattori esterni ma e tu vorresti esplorare anche dei personaggi buoni ad esempio una cosa che ti interessa? sì sì guarda adesso deve uscire un film che la legge è di Artale da un soggetto nostro però una piccola idea che avevo avuto poi a Enrico gli è piaciuta molto l'ha sviluppata ha fatto proprio un percorso si chiama Il Paraiso adesso come titolo prima si chiamava Julio Cesar adesso ha deciso Il Paraiso dovrebbe uscire a settembre e lì faccio un ragazzo insomma un quarantenne un uomo totalmente succube della mamma un pochino cioè vive con lei poi vedrà insomma il film di che parla c'è questo rapporto d'amore e odio proprio tra lui e la madre ecco vivono un po' in simbiosi vanno a ballare insieme la madre è molto gelosa accetta che lui vada a prostitute però non vuole che abbia rapporti sentimentali con le donne sentivo oggi che Neymar si è fatto mettere nel contratto che può tradire poi non ho capito il contratto con chi Neymar Neymar ah il giocatore che può tradire la fidanzata ma solo col preservativo e senza baci non ho capito ma dai ma dai lo sentivo stamattina in radio non so se è vero penso di sera Radio 24 ma altro che Black Mirror uguale non so cederà anche diritti d'immagine sui tradimenti forse che ne so ma no perché può darsi che a livello dei soldi per le l'ha fatto mettere avvocato per i divorzi a modo che lui così non può lei non può togliergli i soldi perché l'ha tradito dice guarda c'era scritto solo preservativo senza bacio quindi sì anche lì però cosa fai se non gliela fai i miliardi mi cascemo mi cascemo no no deve filmare tutti i rapporti però per essere sicuro a quel punto forse pure per risposta io non bacerei fossi lui in modo che se almeno te filmalo il contratto hai rispettato accontentati eh magari accontentati magari vi entra pure la Durex come sponsor sì sì ma senti a proposito di queste cose come se la cava secondo te la la libertà d'espressione ultimamente ma guarda mi sono letto un saggio ultimamente che è molto bello che si chiama l'era della suscettibilità di una ragazza di una ragazza che è venuta anche qua il podcast ah è venuta ecco in gamba qua ragazzi molto molto bravissima quindi scrive tutto già lì sono d'accordissimo con quello che dici no mi dà fastidio questa cosa che addirittura non si possono neanche fare dei personaggi politicamente scorretti diciamo che sta diventando tutto un po' troppo c'è un po' troppa censura un po' troppa anche se per esempio pure ho fatto Cristiano questa serie su Sky però per dire Cristiano non ha questo problema no perché poi si usava anche una terminologia negro zingaro frocio anche come diceva se si può dire però appunto è il personaggio cioè c'è un'ipocrisia di fondo linguistica che è veramente ridicola cioè perché lei va lì che sono appunto dei personaggi di borgata ignoranti e che quindi non è che dicono sai quello c'è quel ragazzo che è diversamente abile oppure è diversamente che cazzo quindi c'è questo che va bene a livello sociale sono d'accordo che uno per strada o con le persone deve mantenere un rispetto una ma addirittura pure se c'è in una forma artistica tra virgolette ma come può essere non so un quadro o non mi posso esprimere a livello perché viene giudicato anche quello no lì diventa un po' pericoloso se mi ricorda mi ricorda qualcosa di passato anche perché le rappresentazioni servono per vedere ritoriale orwell una cosa un po' orwelliana mette un po' paura ricordi orwell c'era l'opera che c'era il volto reato ti ricordi il volto reato lo psico reato addirittura e poi c'era pure il volto reato il volto reato era quando c'era la cosa che dovevano c'era il grande the big brother c'erano loro che dovevano fare il tifo quindi c'era sto quarto d'ora che era il quarto d'ora d'odio c'era il quarto d'ora d'odio nei confronti di chi aveva i figli addirittura facevano arrestare i genitori erano dei delatori i bambini quindi già la cosa è e e poi appunto c'era sta cosa che se non ridevi se non eri contento mentre c'era questo questo big brother ttt era un volto il volto reato cioè in pratica non eri contento non eri euforico non ridevi a londra sono stato poco tempo fa sulla metropolitana c'era scritto sguardo ai ai occhio come si dice la pronuncia scusa ai 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 assoluto cioè assalto assalto ma bene assalto lo sguardo c'è che se tu guardi magari sei mio per capito mai di fare una cugina che fai così quella magari fa il numero verde ti dà la posizione e la segnalazione che ha fatto lo sguardo da chiaro il risultato finale è una società di persone solissime che non puoi più interagire in alcun modo non so londra poi infatti orwell era inglese pure i bambini sono molto già vedo pure io sempre mia nipote sono molto sei subito pronti a essere offesi no e sono suscettibili e poi sono anche molto ci si censurano da soli oppure se ti dici e che cazzo no cosa dice sono tutti molto ma guarda che così è tosta ma è un meccanismo ricorsivo perché quando tutti incominciano a offendersi per qualcosa cosa fai tu sei l'unico che non si offende poi è giusto sembri lo scemo poi del villaggio no e allora quindi devi offenderti anche tu è vero io invece per esempio non sono molto permaloso non frega niente ma è così però colpisce soprattutto nelle rappresentazioni è vero Cristian è gradevole è divertente anche per quello cioè ovviamente non è la singola parola che fa la differenza ma il clima complessivo che tu respiri in quella serie è di libertà no? si è abbastanza liberatoria e quindi e quindi è piacevole anche perché comunque il tema è talmente alto no questo personaggio che l'hanno bloccata la terza quindi dopo questa notizia per i fan sky però che era troppo era troppo secondo me era molto riuscita era troppo bella e poi era troppo di qualità no no assolutamente molto moderna anche nell'impostazione anche me è piaciuta molto però appunto c'era questa cosa qua c'era questa cosa che notavi subito che non c'erano quelle quei blocchi che ci sono in tanti prodotti oggi che tu dici vabbè però si vede che certe cose non me le puoi dire allora ci sta girando intorno no? e lì perde un po' l'arte secondo me sì sono d'accordo quello sì e quindi non ci sarà la terza? no purtroppo no non posso fare niente non lo so credo forse non lo so può darsi magari un film per salutare per chiudere un po' forse sai perché era la seconda si finiva un po' così proprio molto aperta e non lo so e qual è la cosa che ti facciamo una petizione per fare un epilogo di Cristo serve un epilogo anche un film un film 90 minuti ma ecco c'è la cosa che ti ha divertito di più lì? ma no il fatto che mi hanno lasciato molta libertà e che quindi un pochino cioè perché come era scritto scritto benissimo però mi hanno lasciato un po' di libertà sul personaggio perché sai era un po' troppo se no il solito poteva venire il solito picchiatore un po' ottuso invece sono riuscito a metterci un po' di ironia di sarcasmo romano quindi ma infatti io ci ho messo un po' a vederla proprio perché pensavo questo tema di Borgataro che viveva Gesù si si dice sempre già visto e rivisto e invece è la chiave molto interessante perché originale questa è una cosa bella si si non c'è cattiveria cosa così anzi sono stati anche contenti quelli di Corviale perché abbiamo girato là di come è stata descritta la Borgata perché era colorata c'erano le piante c'erano le cose poi nella seconda c'è st'utopia coatta no poi è un po' come ha fatto degli animali oppure un po' come appunto che poi dopo la natura umana viene fuori tipo il signore delle mosche no e quindi no anche loro invece quelli che abitano lì erano erano contenti cioè non erano perché era disegnata bene la Corviale anche certo il serpentone diciamo era colorato le persone pure erano descritte in modo simpatico ha visto quando ci stanno i pezzi con la gente di città palazzo sì sì quindi erano proprio contenti bene ci hanno fatto pure un murale qua vicino ha visto TV Boy a Via dei Pettinari c'è Cristian con c'è stato io diciamo nei panni di Cristian così con Santa Maria sta a Via dei Pettinari davanti al Ponte Sisto a sinistra c'ho pure originale che tu adesso a casa l'attaccherò quello che mi ha regalato di V-Boy grazie senti ma e poi tu hai fatto una delle serie più belle degli ultimi anni che è Boris nell'ultima storia si si a proposito tutte queste cose sui backstage della tv delle serie quella è pazzesca perché oltre a essere divertente è anche molto precisa si come no nel genere si si anzi infatti non ci spiegavamo bene che disney si si è accesa accesa perché disney avesse scelto Boris e te ne sono masochisti però un po' come Giovanni Southfull che ha fatto adesso che avevo letto sul giornale Black Mirror che avevo letto che un sacco di abbonati hanno riuscito l'abbonamento di Netflix questo fatto di condizioni e termini hanno cominciato a scrivere su Twitter ma voglio proprio vedere se è vera questa cosa perché però no appunto c'è sta ma la vita civile è impossibile se non accetti i termini e condizioni certo è giusto non puoi più vivere in questa società ma esatto tanti anni fa avevano fatto una puntata di South Park su questo dove c'erano dei termini e condizioni assurde dove poi eri obbligato a fare del sesso sadomaso con della gente però non l'hai letto nessuno l'ha letto ma se io per esempio devo dirti che ci sto molto attento quando non è che sto sempre su internet non so molto però levo sempre i cookies sta roba qua faccio sempre guarda oppure continua senza accettare oppure eh faccio solo quelli necessari ok rifiuta tutto ok cioè un attimo è un attimo in più che però ti un pochettino di minimo ti profilano un po' di meno insomma non sei proprio anche se poi dopo dici pizza e ti viene la pubblicità della pizza ma ho detto no a tutto come è possibile e quindi lì fai il ma sì lì devo ringraziare loro per il regalo che mi hanno fatto ci arrapico quando mi ha chiamato ho detto va bene ma quanto devo quanti soldi devo pagare ho detto per fare Boris perché poi ero fan della serie io quindi facevo fatica a recitare che poi mettilo come era sennò poi facevo fatica a recitare perché essendo fan sfegatato è recitare come con panno fino ti rabbassi così ero fan quindi ero mi scordavo pure di un po' ci affaticavo capito perché ero allo stesso tempo fan però pure attore quindi dovevo lavorare ho fatto la doppia fatica e poi certo si è sentita tanto la mancanza di senza nulla togliere a loro che sono bravissime di Mattia Torre purtroppo infatti è stato insomma più un saluto a lui un'operazione un po' però è riuscita di fan sì sì è una bella cosa senti per il resto cosa fai viaggi ne fai è una cosa che ti piace viaggi io viaggio poco mi piace molto stare a Roma cioè poi adesso sono andato ad abitare un pochino più in campagna diciamo tra virgolette sempre dentro del raccordo verso zona tipo appiantica ardeatina così e devo dire che sto proprio rinascendo e se viaggio per lavoro preferisco è il massimo cioè se è un film vai festival se lo prendono eh allora io lì sto proprio è il top agosto cerco di non muovermi perché appunto non è che facciamo magari un lavoro sai quindi però ecco non sono mai stato molto attratto da dall'estero non so perché sono andato e ho visto Cuba gli Stati Uniti sono stato mi piacerebbe a New York non sono mai stato vorrei andare a vederla è una piccola Roma è una piccola Roma è una piccola Roma ha detto così sei preso tipo pacco portato eh vedi i posti a quello per me il massimo viaggiare con il film se posso che non devo lavorare io dico sempre sì siamo andati a Sarajevo al festival di Sarajevo al festival di Londra e quindi puoi stare vedi la città e più porti pure in giro il film quindi per me quello è il massimo non devi perdere tempo a organizzare le cose fanno tutto loro una svolta comodissima senti è quella cosa che ti piace di più della tua vita adesso in generale cioè se dovessi dire una cosa che proprio sono contento sono abbastanza solo in maniera quasi non la vivo cioè da adesso diciamo una solitudine apprezzo una sorta di solitudine un po' necessaria che mi trovo in un periodo della mia vita che che mi sento un po' che devo un po' rimettermi un po' in contatto con una parte di me sono abbastanza sereno sto cercando sto cambiando un po' sto cambiando un po' fase non lo so che dire sto crescendo un pochino ho 40 di 44 anni quindi un po' sto abbandonando l'esoscheletro ah ok da non lo so che sto diventando da cavalletta già l'ho fatto figli? uomo figli no non ce l'ho ma ti piacerebbe? nipoti nipoti cioè io farei figli per avere nipoti quindi forse mi sa che prendo direttamente dei nipoti come vanno adesso sono quei 30-40 anni di attesa esatto che sono un po' scomodi non lo so vediamo se più avanti ci sarà un algoritmo che magari uno può adottare dei nipoti io sai voglio lo grammi posso far posso far nonno dico posso far nonno così verso i 70 se ci arrivo sì la nuova versione del nipote Tamagotchi praticamente però nonno però esatto nonno Tamagotchi così sta là ma ti serve un nonno così eh faccia il nonno tanto quella alla fine è quello più bello che i miei figli poi dopo hai visto ci litighi cose poi dopo visto quando sono tutti contenti fatti fare i figli per i miei genitori così fanno i nonni è giusto ho mia sorella che l'ha fatto quindi sei coperto so coperto va bene Dovaldo grazie grazie a te grazie buona giornata grazie